Ciao a tutti, benvenuti a questa talk che riguarda il dietro le quinte di Assetto Corsa che è un gioco di corsa automobilistica fatto da QNOS Simulazioni. Io sono Alessandro Piva, lui è Fabrizio Brugnaro e siamo due programmatori di QNOS. Ecco qua un breve sommario, innanzitutto vi dirò il background, nel senso qual è stato il contesto in cui abbiamo iniziato questo progetto, poi quali sono state le problematiche iniziali per portare il gioco su console, poi i problemi che abbiamo avuto per quanto riguarda la performance, la conversione dei contenuti, cioè gli asset, poi i problemi che abbiamo avuto nell'integrare i middleware, i middleware sarebbero delle librerie che servono all'engine per fare certe cose, ad esempio l'interfaccia utente, e poi passeremo alla questione della submission, la malefica submission, e poi Fabrizio vi parlerà dell'interfaccia, dei TRC e delle nuove feature che abbiamo aggiunto al gioco, e poi parlerà del testing e di QA. Io mi sono Alessandro Piva, anzitutto per presentazioni, ho iniziato a programmare videogiochi con il Comodo 64, quando ero molto piccolo, e ho sempre fatto anche competizioni in informatica. Ho la laurea triennale in informatica, presa alla Sapienza, anche se ho iniziato qui a Roma 3, sono passato poi a Sapienza perché qui ancora non c'era informatica, c'era tanto ingegneria informatica qui. Poi ho lavorato per tre anni presso Rockstar North, a Edimburgo, e poi dal 2014 in poi lavoro per Cuno Simulazione. Cuno Simulazione è un'azienda fondata nel 2005 a Stefano Casillo e Marco Massarotto, ed è stata sempre autofinanziata, nel senso che non è un'azienda che ha cercato soldi da venture capitalist, da editori o cose del genere. È partita da zero, con i risparmi dei fondatori, e da lì è cresciuta. E per i primi anni ha lavorato intensamente su simulatori professionali, nel senso dei sistemi software e hardware, che aziende come Ferrari, Dallara o altri, usano per far provare le proprie auto ai piloti. E il nostro team è composto da circa 25 persone, ma un core team è molto più piccolo, siamo 15 persone, ma tra volte ci capita anche di fare call su Skype con 7-8 di noi, e noi siamo il core del core, diciamo. Quindi con un'azienda piccola ci sono tuttavia una serie di vantaggi, nel senso bassa burocrazia, molto più facile parlare con gli altri. Quindi è una cosa fondamentale il fatto che Cunos sia molto piccola. Assetto Corsa è un gioco di simulazione di automobilismo, pubblicato su Steam in Italy Access nel 2013, e poi è uscito con la 1.0 nel dicembre 2014. Ovviamente in questo arco di tempo è cresciuto molto, adesso siamo a marzo 2016, la versione più nuova, la 1.14, che non so se è già uscita o va in preparazione, che ha circa 150 auto, la ventina di tracciati, ed è stata parecchie volte bestseller su Steam. Eppure essendo un gioco indie, un gioco di dimensioni contenute rispetto a crisi massimi come Forza o Gran Turismo, è riuscito a fare delle cose, ad esempio, è stato il primo gioco sul PC, a avere il tracciato del Norsalife, che è un tracciato molto famoso, in laser scan. Se sapete cos'è il laser scan? È una tecnologia che serve per scannerizzare in 3D i tracciati, che poi i nostri grafici usano per fare una rappresentazione grafica e fisica molto molto aderente alla realtà. Ed è un gioco che è nato ed è cresciuto sempre nell'ambito PC, nel senso che inizialmente i fondatori non hanno mai considerato un porting su console. Poi, a un certo punto è nato, verso il 2014, è nato l'interesse di portare assetto corsa su console, ma senza renderlo più semplice, senza semplificarlo o ridurlo nelle performance o nel realismo. Cioè, il nostro obiettivo era di portare assetto corsa, così come è su console, su PC, su console, quindi PlayStation 4 e Xbox One. E non solo, abbiamo strutturato lo sviluppo affinché non fosse d'intralcio alla versione su PC. Nel senso, la versione su PC, come ho fatto vedere poco fa, è uscita nel 2014, e abbiamo continuato a supportarla e lo sviluppo su console non doveva rallentare o frenare il supporto alla versione PC. E in questo porting abbiamo dovuto affrontare delle cose nuove per l'azienda. Ad esempio, il processo di submission, sul quale ci arriveremo tra poco, o la quality assurance, nel senso avere un team dedicato di tester che gioca e testa a tempo pieno al gioco. Iniziamo dal porting iniziale. Nel senso, porting iniziale intendo, ok, abbiamo il codice C++ di assetto corsa PC, e ci è appena arrivato il dev kit, e dobbiamo portarlo su console. La cosa che ci ha facilitato molto è stato il fatto che assetto corsa ha un codice di piccole dimensioni, si parla di 80.000 righe di codice. Addirittura è più piccolo di alcune librerie, come Scaleform, che abbiamo utilizzato nello sviluppo. E quindi, portare il codice inizialmente è stato abbastanza facile. Il nostro codice è scritto in C++11, abbastanza portabile, e le parti non portabili, quindi per la grafica, l'input e il sistema, il Windows System, per quello abbiamo creato un layer di astrazione, quindi la classe Windows, la classe Input e cose del genere. E la cosa fondamentale che abbiamo fatto è andare per gradi. Nel senso che uno non è che parte subito mettendo il carico da 90 e cercando subito di avere tutto il gioco che funziona. La prima versione che noi abbiamo avuto che funzionava su console risale a dicembre 2014, e non c'era né l'audio, né il networking, non c'era nessuna interfaccia grafica, nel senso che il gioco partiva direttamente in gara, e non c'era il tachimetro e nient'altro, c'era un frame rate bassissimo, intorno ai 10-20 frame al secondo, quando andava bene, c'erano un sacco di glitch grafici, ed era effettivamente ingiocabile, perché proprio era difficile da guidare, perché non avevamo portato correttamente il codice per gestire l'input. Quindi l'elefante nella stanza erano le performance. Appena abbiamo avviato il gioco abbiamo visto che andava davvero molto lento, si parla di 10-15 frame al secondo, anche con pochissime macchine, vuol dire anche con 2-3-4 macchine, il gioco poi è uscito che aveva 16 macchine in pista. E ovviamente c'erano dei bug di performance molto ovvi, li abbiamo risolti, ma sempre stavamo a 20 frame al secondo, e l'obiettivo era avere 60 frame al secondo ovviamente. Le console PS4 e Xbox One hanno un buon livello di performance, per quanto riguarda la GPU. La scheda video è abbastanza buona. Il problema è la CPU, perché in entrambe le console, il processore è un processore AMD, con un'architettura mobile, quindi, ce l'ha detto la stessa Sony, a parità di clock, ha il 50% delle performance di un processore Intel. E già questo in partenza è una cosa negativa. Poi, questi processori hanno un clock abbastanza basso. Ovviamente parlo della PlayStation 4 Pro e l'Xbox One, che è Scorpio, che deve ancora uscire. Si parla delle versioni base, che sono il processore a 1,6 GHz. Quindi, se considerate che un processore Intel su desktop, anche se nominalmente a 1,6 GHz, quando va in turbo va a 3,2 GHz, quindi il doppio del clock, quindi avevamo un budget di CPU che era un quarto rispetto alla versione PC. Quindi, questo qua non era una buona notizia all'inizio. E quindi, quello che abbiamo dovuto fare è fare un refactoring abbastanza profondo dell'architettura dell'engine. Inizialmente, cioè, quando, prima di iniziare il porting, il codice AssettoCourse era portato su due tread monolitici. Cioè, c'era un thread della fisica che faceva un frame ogni 4 millisecondi, fisso, quindi 250 Hz, e poi c'era un thread grafico che andava il più veloce possibile, nel senso, andava tanto veloce quanto la scheda video gli permettesse. Quindi, la fisica ogni 4 millisecondi fissa, la grafica poteva anche andare a 16 millisecondi, che è 60 prime al secondo, più veloce se avevate una GPU più potente o cose del genere. Quindi c'erano due tread monolitici. E il codice di rendering era molto in stile OpenGL, nel senso che c'era un albero di oggetti, ognuno dei quali aveva una funzione virtuale render, e noi essenzialmente facciamo una visita, una visita in profondità di questo albero di oggetti, e queste funzioni render facevano le loro chiamate di disegno. Quindi, era una cosa strettamente sequenziale, e orientata al... non so qual è il termine opposto di data-oriented, il fatto sta che era basata più su funzioni virtuali che altro. Quindi, l'architettura del engine era molto sequenziale. quindi quello che abbiamo... i punti di forza delle console sono del lato CPU, il fatto che hanno tanti core, su entrambi le console abbiamo sei core completamente a disposizione dell'applicazione, e le primitive di sistema, intendo draw call, chiamate di disegno, semafori, eccetera, e le apigrafiche, hanno un overhead molto basso. Quindi, la chiave per sfruttare al meglio la CPU delle console è andare multi-threaded, il più possibile. Quindi, abbiamo cominciato a fare un refactorio dell'engine per renderlo molto più multi-threaded. Ad esempio, abbiamo modificato il motore fisico in maniera che lo step di ogni macchina venga fatto su un thread separato. Nel senso, il motore fisico a setto corso è fatto così, che prima vengono fatti, venne fatto lo step per ogni macchina. Ad esempio, se ci sono 16 macchine, vengono fatte 16 step. E questi step applicano delle forze ai vari componenti della macchina. Poi c'è un grosso step di integrazione, che noi facciamo utilizzando l'ebreria di fisica ODE, che applica queste forze e fa effetto alle collisioni, fa l'integrazione fisica, essenzialmente. E alla fine di questo step abbiamo le nuove posizioni delle auto, di tutti quanti i componenti delle auto. La prima cosa che abbiamo fatto è fare in modo che almeno la prima parte, lo step di integrazione fisica, è molto difficile rendere multitraded. La prima parte, almeno, cioè lo step delle singole macchine, potesse essere fatto in maniera multitraded. Quindi, ad esempio, se abbiamo tre core assegnati alla fisica, ogni core fa quattro o cinque macchine. cose del genere. Poi, abbiamo fatto un completo refactoring del motore grafico in maniera da essere data-oriented. Nel senso, non abbiamo più una gerarchia di oggetti che ha delle funzioni virtuali render. Ma, noi attraversiamo sempre il grafo degli oggetti della scena, ma questi qui, questo attraversamento, crea una lista di oggetti renderizzabili. È una lista, quindi una struttura dati. E poi, in vari tre add separati, noi scorriamo questa lista per creare i vari deferred context. Sapete cos'è un deferred context? Comunque, lo dico brevemente. Quando uno deve renderizzare un frame di grafica, fa una lista di comandi di disegno che poi spedisce la scheda grafica. La scheda grafica esegue uno dopo l'altro. ok? I deferred context praticamente sono un meccanismo per creare delle sottoliste. Cioè, c'è la lista principale e però questa può essere divisa in sottoliste. Per esempio, una lista per le ombre, una lista per il post-processing, una lista per la geometria principale del gioco. E queste liste possono essere fatte in tre addi separati. Quindi abbiamo fatto un refactoring affinché queste fasi che vi ho detto, ombre, riflessioni, eccetera, vengono effettuate tramite diverse liste di disegno che sono fatte in vari trade separati. E poi, per fare tutto quanto questo, per passare al, per puntare sul multitraded, abbiamo fatto implementare un job system con alta flessibilità. Una strategia per fare il multitrading è avere vari trade che ognuno dei quali fa il suo lavoro e stanno e si sincronizzano gli uni con gli altri tramite mafuri e cose del genere. Un job system è una cosa un po' più semplificata e anche un po' più generica. In senso, uno crea un certo numero n di trade generici che sono in ascolto continuamente e stanno solo in ascolto su una coda di job. Un job è una semplice unità di esecuzione, essenzialmente una funzione che ha degli input e degli output ben definiti e noi dal trade principale noi postiamo su questa coda un certo numero di job e gli n trade che sono in ascolto una alla volta estraggono un job dalla coda e le eseguono. In questo modo possiamo questo qui è un approccio molto flessibile perché ad esempio possiamo noi partiamo e possiamo mandare ai trade in sottofondo che ne so 10 job di rendering 4 job di audio e un job di fisica e i trade in sottofondo il primo che arriva se lo prende e le esegue quindi non abbiamo una serie di tre ad ognuno di quali con una funzione ben precisa cioè non c'è il trade di audio il trade di caricamento il trade di di quest'altra cosa qui un attimo e prendere daniel no non devo prendere daniel dunque questo qui è adesso vi faccio vedere questo qui sono dei capture che abbiamo fatto sulla playstation 4 che offre dei tool per fare profiling della memoria della cpu questo qui è un frame fisico questo qui riuscite a vedere bene e queste tre linee che vedete sono tre core noi dedichiamo tre core alla fisica questi qui questi qui nei quadrati blu sono i job di simulazione delle auto cioè gli step delle auto che vedete vengono fatti in parallelo poi c'è poi c'è lo step di integrazione che viene fatto su nella single thread diciamo e poi c'è un'ultima fase in quale comunichiamo al thread grafico quelli che sono i risultati della simulazione fisica questa invece è la situazione lato grafica soltanto due core abbiamo dedicato alla grafica perché un terzo ci serviva per il sonoro tu hai il frame grafico dunque iniziamo e c'è anzitutto la simulazione di gameplay nel senso facciamo tutte quante cose tipo applichiamo le regole di gara o muoviamo le auto in base a quello che ci ha restituito la fisica e già mentre noi stiamo simulando il gameplay noi lanciamo in un altro thread una serie di job per gestire l'interfaccia utente le particelle tipo esempio il fumo il post processing quindi già viene fatto in sottofondo poi quando è finita la simulazione di gameplay c'è il scene traversa cioè quello che avevo detto prima cioè l'attraversamento del grafo di scena per creare la lista di oggetti renderizzabili e queste qui sono le draw list nel senso i vari job separati per creare i vari deferred context cioè le liste di comandi di disegno per le varie fasi ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 cioè quello lì grosso in basso è quello per la scena principale poi ce ne sono 3 sopra per i riflessi se non ricordo male 2 sopra per i riflessi 3 per le ombre e poi un altro per le trasparenze e poi un altro che non ricordo al momento e quindi in questo modo cerchiamo di utilizzare due core ti faccio notare che ad esempio i job blu se noi avessimo deciso di assegnare un ulteriore core alla grafica nell'ultima fase quei job si sarebbero sparsi su tre core anziché due questo qua ci permette di avere un numero questo sistema job ci permette di avere un numero variabile di tre ad da dedicare alle varie cose se ad esempio noi avessimo che ne so decidessimo di utilizzare soltanto due core per qualche motivo in realtà il sistema funziona in maniera esattamente identica soltanto che è più lento perché i job li accumula soltanto nel core principale viceversa se noi domani avessimo un processore che ha 16 core anziché 6 alcune parti ad esempio queste parti in blu qui andrebbero molto più veloci perché tutti i job si spargerebbero in maniera equa e poi là sotto abbiamo dei job per la simulazione dell'audio quindi abbiamo fatto un refactoring da single thread a multi thread per arrivare a 60 frame al secondo poi oltre al problema delle performance che era quello più grosso c'è stato anche un problema che è più di livello ingegneristico diciamo cioè i contenuti per contenuti intendo modelli texture suoni della versione pc devono essere convertiti o preprocessati comunque sia alle altre sulle altre piattaforme innanzitutto perché talvolta i formati sono diversi ad esempio le texture sono dds su pc e sono gnf su playstation 4 perché esistono questi formati specifici perché chi offre cioè sony e microsoft che fanno il loro sdk app per le console ovviamente offrono dei tool che cercano di ottimizzare gli asset per la piattaforma per l'architettura hardware ad esempio il formato di texture gnf le texture al suo interno sono swizzled nel senso che l'ordine dei pixel all'interno di una texture gnf non segue l'ordine tradizionale riga 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 in ogni riga colonna 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 ma i pixel o i bloc di pixel sono organizzati secondo una curva di piano che è un'organizzazione in memoria che permette un utilizzo migliore della cache quindi per dire le texture vanno convertite o le cose non vanno convertite vanno alcuni asset non devono essere convertiti ma comunque sia generati automaticamente i texture atlas sono delle grosse texture che contengono altre texture al loro interno per diminuire la quantità degli scambi di texture quando andiamo a fare il rendering e ovviamente questa conversione degli asset è una cosa che dovevamo rendere in maniera automatica sia per evitare che gli artisti vadano lì su ogni singola texture e modello e fare la conversione a mano e sia perché nel caso uno trova un bug in uno dei tool di conversione e ovviamente è successo uno cancella tutto quanto e li ricrea da zero in maniera automatica e questa cosa qui uno la fa su un pc remoto perché convertire l'intero gioco ovviamente può richiedere parecchie ore per questo abbiamo per fare questa conversione degli asset abbiamo fatto un sistema di un build system basato su ninja qualcuno di voi conosce ninja? no dunque ninja è un tool ispirato a make voi conoscete make vero? make è un programma che serve per costruire software o asset nel senso che un make file è una lista di regole del tipo se è cambiato questo file creami quest'altro file con questo comando ok? ad esempio quando voi compilate codice cpp, java, csharp in realtà voi state usando un make file cioè se il codice sorgente è cambiato utilizza il compilatore per crearmi l'eseguibile e make è un classico programma del mondo unix per fare questo ninja è un tool similare a make però è orientato più alla semplicità e alla velocità un file ninja è come vi ho appena detto una lista di regole input comando output e il tool cioè ninja se vede che gli input sono cambiati esegue i comandi per generare gli output ovviamente se l'input non è cambiato ninja non 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 creerà di nuovo il file di output ninja è molto scalabile perché è perché è rendato alla semplicità ed è performante anche con build di 40.000 file nel senso noi creiamo questo gigantesco file ninja con tutte quante le texture del gioco e e quando io scrivo da riga di comando ninja lui mi va a capire quali file sono cambiati e me li converte e anche appunto se ce ne buttiamo 40.000 lui lui è molto veloce a vedere le dipendenze di 40.000 file e se a parte a parte ninja il tool che abbiamo dato principalmente è stato python cioè abbiamo creato una una serie di scriptini python per fare la conversione degli asset preprocessing e sono una dozzina di script autocontenuti ed autodocumentati abbiamo usato estensivamente il modulo arg parse della libreria standard di python nel senso ogni singolo script se uno non si a parte che faceva una sola cosa singola poi se uno non si ricordava cosa faceva basta che faceva python nome dello script trattino trattino help esattamente così come fate con qualsiasi programma da riga di comando ad esempio in ambito unix non c'avevamo una una grossa rete di tool interconnessi tra di loro con con interazioni non ovvie o o baggose eventualmente e e poi python c'ha anche la 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 cosa buona che grazie alla solubria standard è facilissimo fare cose tipo aprire immagini generare testo creare processi tutte cose che abbiamo fatto nei nostri tool di conversione in retrospettiva forse sarebbe stato meglio farlo in csharp nel senso che python è sicuramente più veloce però mia personalissima opinione è che il codice csharp in generale il codice scritto in linguaggi di programmazione estaticamente tipizzati sia più mantenibile nel corso del tempo e questa cosa qui la combinazione ninja più python abbiamo utilizzata anche per la generazione del master disk c'è tutto tanto un lungo processo per creare il disco che va poi alla fabbrica o comunque sia i pacchetti mandati in submission e abbiamo usato ninja e python anche per fare questo tipo quando bisogna fare delle build faccio anche lì da riga di comando ninja e poi durante tutta quanta la notte si fa i pacchetti di master poi ho usato dei middleware i middleware come vi ho detto sono delle grosse librerie che offrono delle funzionalità che uno utilizza ad esempio all'interno del gioco questo console ne fa uso di tre per l'interfaccia dente scaleform per l'audio fmod e per il post-processing gli abyss hanno delle caratteristiche in comuni nel senso che hanno un milione di feature e sono estremamente complessi perché ovviamente cercano di fare quello che ogni singola cosa che potrebbe venirvi in mente di fare e anche un'altra caratteristica comune che sono bugosi nel senso che prima o poi il bug lo trovate sempre e trovare un bug nel middleware è una cosa molto più dolorosa che trovarlo nel vostro codice perché a parte è fatto appunto per la loro complessità cioè talvolta non avete neanche il codice sorgente e comunque dovete aspettare che loro ve lo fixino e quindi diciamo che in futuro valuteremo valuteremo con attenzione se il costo in termini di tempo vale la candela per i vantaggi che dà il midware nel caso di questi tre probabilmente ne è valsa la pena per fmod e forse un po' gli abyss ma non è valsa la pena per scaleform poi arriviamo la submission dunque per per pubblicare un gioco su una console il vostro gioco deve rispettare una lista di trc cioè technical requirements checklist c'è un lunghissimo elenco di requisiti tecnici e funzionali che sony e microsoft vogliono che il vostro gioco rispetti strettamente se no il vostro gioco non esce sulla console e alcuni sono delle stupidaggini ad esempio il gioco deve poter essere messo in pausa ad esempio ma alcuni altri sono sono molto sono richiedono delle delle modifiche architetturali molto profonde al vostro gioco ad esempio la multiutenza i giochi su xbox one devono supportare la multiutenza nel senso che in qualsiasi punto del gioco voi siate se l'utente si slogga il gioco deve ritornare al menu principale e caricare un altro salvataggio e tutte queste cose qui e poi la criptazione del protocollo di rete sempre qua si parla di xbox non si sa perché loro vogliono che il protocollo di rete che usiamo nel gioco sia criptato e poi l'installazione in background questa è una cosa relativa a ps4 nel senso che quando voi inserite il blu ray sulla ps4 il gioco deve essere giocabile subito quindi dovete offrire una modalità di gioco un livello iniziale che sia giocabile mentre il gioco installa e quindi bisogna stare attenti ai tempi di caricamento nel senso è come se l'utente la prima volta che si rischia il disco non si deve quasi accorgere del fatto che il gioco è su blu ray e sta venendo copiato e una cosa fondamentale che faremo per i prossimi progetti sarà leggere da affrontare i trc fin dall'inizio poi un'altra cosa è che hanno tempistiche molto più espanse rispetto al pc bisogna prenotare lo slot bisogna creare la build bisogna fare l'upload della build si parla quindi di file di un master disk sono 25 gigabyte documentazione quindi tutti quanti le lingue la dimensione del pacchetto eccetera e purtroppo la triste verità del pubblicare un gioco su console è che c'è bisogno di avere una persona internamente nel team di sviluppo o lato publisher che gestisca il processo di submission cioè i rapporti con il platform holder perché se no noi sicuramente non ne saremmo usciti visto quanto è complicato il sistema di submission ok io ho terminato qui poi se volete farmi domande alla fine dell'intervento di Fabrizio grazie salve a tutti io sono Fabrizio Brugnaro programmatore presso Cuno Simulazione cercherò di andare più spedito visto che il mio collega si è dilungato un po' fin dall'infanzia diciamo ho giocato con i videogiochi e quando sono arrivato all'università ho deciso di proseguire la mia carriera in questo ambito quindi in seguito alla mia laurea triennale in ingegneria informatica qui a Roma 3 ho avuto la possibilità proprio qui a Uncode Motion di incontrare uno dei programmatori che all'epoca lavorava per Kunos da allora dal 2014 ho lavorato ad Assetto Corsa e al porting su console principalmente vi parlerò del porting dell'interfaccia che è stata la fatica più grande le nuove feature che sono state aggiunte su richiesta anzi su necessità proprio perché i TRC lo impongono e poi parlerò brevemente del testing e QA che è stato effettuato immediatamente è stata evidente la necessità di realizzare una nuova interfaccia per Assetto Corsa console la precedente interfaccia utilizzata su PC era stata pensata per un utilizzo con mouse il che non è assolutamente praticabile in quanto la periferica principale è il controller inoltre avevamo due eseguibili uno per il menu principale e uno per il gioco vero e proprio il menu principale si occupava di definire tutti i settaggi e le impostazioni che poi sarebbero stati andati utilizzati dall'altro eseguibile questo non è accettabile su console in quanto deve essere solamente uno l'eseguibile abbiamo quindi valutato le possibilità per creare questa nuova interfaccia le due possibilità erano di sviluppare un nuovo editor un nuovo sistema di user interface internamente o di utilizzare un midwell come Scaleform alla fine abbiamo optato per Scaleform in quanto i costi di sviluppo sarebbero stati enormi per i tempi lunghissimi per sviluppare un'interfaccia internamente Scaleform utilizza la tecnologia Adobe Flash quindi era necessario che aveva la conoscenza di Flash e ActionScript e il lavoro in questo caso è stato diviso in due parti un altro programmatore che aveva conoscenze specifiche in Flash si è occupato di tutta la parte Flash mentre io mi sono occupato di implementare Scaleform e tutte le sue funzionalità all'interno del gioco inoltre creare la logica che avrebbe permesso a Flash di interagire con il gioco la volontà di mantenere l'esperienza su console il più vicina possibile alla versione PC ha richiesto di portare tutte quante le funzionalità e le possibilità che offriva il vecchio menu e la vecchia interfaccia in game all'interno di Flash questo è stato un processo molto lungo e dispendioso in quanto la vecchia interfaccia non era stata minimamente pensata per un porting infatti si trattava di una serie di elementi grafici come bottoni slider drop down a cui erano legate delle funzioni di gameplay quindi quello che è stato necessario fare è andare a cercare tutte queste funzionalità collegate a queste pulsanti diciamo estrarle tradurle e diciamo fare in modo che fossero utilizzabili tramite interfaccia Flash questo ha richiesto un grosso dispendio di tempo in quanto erano sparse praticamente in tutto il codice e inoltre alcune funzionalità particolari di Assetto Corsa come delle app in game che erano gestibili tramite mouse sono dovute diciamo essere riscritte completamente e in caso adattate dove era possibile un'altra funzionalità utile di Scaleform è stata il sistema di traduzione che ha all'interno infatti dovendo il gioco uscire in tutto il mondo necessitava di diverse lingue diversi supporti e il sistema di traduzione dei caratteri quindi di trasformazione anche dei caratteri è stato fondamentale e ha aiutato molto in questo caso una serie di nuove feature aggiuntive sono state implementate all'interno del gioco in quanto richieste espressamente da Sony e Microsoft le principali sono il sistema di salvataggio è fondamentale i trofei gli achievement e una serie di servizi online aggiuntivi il sistema di salvataggio era molto semplice su PC infatti erano solo una serie di file contenuti all'interno della cartella di gioco dove erano presenti tutte le informazioni su console questo ovviamente non è possibile ogni console ha un suo sistema molto particolare di cui non vi posso parlare a causa dei vari accordi con Microsoft e Sony però sono molto diversi dalla versione PC e inoltre presentano una serie di restrizioni che hanno costretto ad adattare il nostro sistema in modo che funzionasse sia con l'uno che con l'altro e non solo alcuni di questi elementi del salvataggio come possono essere i replay che uno salva dopo una gara eccetera tutti questi file devono essere trattati in una maniera molto particolare perché non rispettavano altrimenti i salvataggi standard della console il sistema dei trofei ed achievement era un sistema completamente inedito in quanto era assente da setto corsa PC il processo su tutte e due le console è stato molto differente infatti una delle due è stato molto semplice e rapido mentre l'altra è stato un processo lungo e macchinoso che ha richiesto molto tempo speso a impostare settaggi e fare cose è stata una lunga battaglia comunque in ogni caso alla fine è stata anche una cosa divertente questa pensare a come diciamo sfidare gli utenti a ottenere il 100% dei trofei alla fine abbiamo deciso di effettuare un sistema dove i trofei venivano assegnati con una difficoltà sempre maggiore e per completare penso quelli più difficili cosa che non ho fatto neanche io bisogna essere veramente bravi però abbiamo ricevuto comunque notizia che qualcuno ci è riuscito quindi questa è stata una bella soddisfazione per quanto riguarda i servizi online questa è stata una bella rogna in quanto sia Sony che Microsoft richiedono che il gioco rispetti una serie di controlli e di requisiti affinché un utente possa collegarsi online e giocare online un esempio di alcuni controlli può essere se l'utente possiede o no il Playstation Plus o l'Xbox Gold se rispetta i limiti di età se non è stato bannato se il software aggiornato e così via ce ne stanno veramente tanti e qui è stato un lavoro tra interfaccia che doveva controllare in determinati punti diciamo è stata una cosa molto precisa infatti sia Sony che Microsoft sono molto diciamo puntigliosi durante la fase di submission su queste cose fanno veramente molti test e rimandano un sacco di roba indietro inoltre per diciamo per supportare completamente l'online su assetto corsa e quindi per mettere il gioco multiplayer è stato necessario aggiungere un nuovo passaggio durante il processo di connessione al server su PC è una cosa molto semplice dove se un giocatore vuole giocare online viene mostrata una lista di server a cui può unirsi su console deve essere aggiunto un nuovo passaggio ovvero prima di unirsi al server il giocatore deve entrare a far parte di una sessione di gioco ovviamente tutto questo è trasparente all'utente quindi lui non se ne accorge però questa sessione di gioco è necessaria per una serie di funzionalità aggiuntive che sono richieste sia da Sony che da Microsoft altrimenti il gioco non esce un esempio di queste funzionalità sono la possibilità di invitare altri giocatori all'interno della propria sessione di gioco oppure di utilizzare la voice chat in game questi sono diciamo dei TRC che non possono essere ignorati e richiedono un notevole dispendio di tempo quindi abbiamo dovuto adattare tutta la nostra struttura di gameplay diciamo per permettere queste sessioni di gioco di essere accedute il team di QA è stata una novità per la nostra azienda su PC noi non utilizziamo un team dedicato per testare il gioco abbiamo in realtà un gruppo ristretto di giocatori che si occupano di testare per noi il gioco questi sono degli appassionati dei simulatori di guida quindi effettuano un testing molto specifico prima che i nuovi rilasci vengano pubblicati su Steam su Playstation e Xbox questo non è possibile la lunga lista di TRC che è veramente molto lunga non permette assolutamente di avere un team molto ristretto e che soprattutto non conosce i TRC infatti basti pensare che per ogni singolo TRC Sony e Microsoft forniscono una lunga lista di test case e tutti questi test case vengono verificati in fase di submission e quindi è necessario effettuare tutti e ogni singolo test e la mole di lavoro è enorme quindi un team di testing è assolutamente necessario e l'aiuto si è rivelato subito indispensabile ma c'è stato diciamo un periodo di rodaggio dove abbiamo dovuto definire tutti i metodi e gli strumenti di collaborazione però dopo poco tempo la collaborazione è diventata più fluida e siamo riusciti ad andare più spediti un altro problema che diciamo è comparso dopo un po' di tempo è che il team di testing si è concentrato molto sui TRC questo è strettamente necessario però diciamo è venuto a mancare il testing che per esempio avveniva su PC ovvero dove i giocatori e i tester erano persone appassionate del genere che conoscevano benissimo il simulatore di guida e che quindi riuscivano a individuare efficacemente problemi e bug relativi proprio al gameplay purtroppo i tester del QA non avevano questa esperienza e quindi diciamo di questi problemi sono venuti alla luce dopo e abbiamo dovuto effettuare un lavoro successivo e quindi in conclusione il porting di Assetto Corsa è stato un porting mirato a mantenere le funzionalità del PC e quindi la fedeltà al gioco deve essere perfetta e il nostro obiettivo è quello di mantenere la simulazione fisica il più reale possibile questo è stato assolutamente un punto fondamentale su console e visto inoltre che il progetto è stato gestito da pochissime persone all'interno di Gunos è stato veramente un'impresa veramente dura e la sfida principale alla fine è stata le performance al lato tecnico mentre invece al lato non tecnico e quindi un po' più burocratico la gestione dei TRC e della submission io vi ringrazio il mio tempo è scaduto qui grazie per l'attenzione all'interno all'interno all'interno